La Salernitana scendereà in campo lunedì contro la Roma. Non ci sarà nessun rinforzo nella sfida a casalinga contro i giallorossi con Inzaghi che deve continuare l'operazione Miracolo con pochi interventi dal mercato. Gli allenamenti continuano al centro sportivo con il tecnico e continuano a motivare i suoi ragazzi. Nelle ultime ore in nome di Kevin Lasagni è stato accostato con insistenza alla Salernitana. L'attaccante gioca in Turchia ed è di proprietà del Verona che vorrebbe liberarsi definitivamente dell'oneroso ingaggio. Al momento però non risultano trattative vere per il calciatore con la Salernitana che monitora la giusta occasione senza però svenarsi a livello economico. Ed in effetti ciò che servirebbe a club Granata è una cessione onerosa capace di dare linfa vitale alle casse del club. Probabilmente in casa Salernitana qualcuno si starà mangiando le mani per non aver ceduto dia in estate che al momento non ha offerte di mercato nei club interessati a prendere un calciatore quasi sempre infortunato in questa prima parte di stagione. Sabatini e Zaki quasi sicuramente dovranno far comprendere al calciatore quanto sarà importante per il club averla rientro per poi cederlo la prossima estate. Ed in effetti solo così la Salernitana può contare sull'avere un giocatore offensivo capace di fare gol visto che finora è Candreve il capo cannoniere della squadra. A livello difensivo c'è bisogno di qualche innesto. È notizia di questi giorni l'interessamento per Geron Boatenga alla Salernitana. Da tempo il difensore tedesco ha trovato un accordo con il club Granata che però prima deve cedere un giocatore per sbloccare l'indice di liquidità. Si era pensato a Matteo Lovato il cui trasferimento al Torino è legato dall'eventuale partenza di Zima. Chissà se la trattativa possa sbloccarsi con un'operazione diversa. Infatti nelle ultime ore si è registrata una decisa accelerata per la cessione di Erik Boteim. L'attaccante norvegese ai margini del progetto potrebbe essere vicino al ritorno al Bodo Klimt. La sua cessione forse potrebbe così consentire ai campani di accoggerlo svincolato Boatenga.